buongiorno a tutti lecchesi dal termine di questa prima settimana di fase 2 è la settimana della ripartenza è stata la settimana in cui hanno riaperto i trasporti le fabbriche e tanti esercizi commerciali a mio avviso però è stata una ripartenza parziale perché non possiamo illuderci che possa ripartire a pieno l'attività economica senza occuparsi della famiglia senza occuparsi delle esigenze dei genitori che devono andare a lavorare e ancora non hanno servizi che siano gli asili le scuole materne che siano gli oratori gruppi di aggregazione ecco purtroppo c'è una grande carenza nell'attuale dibattito che è la carenza del soggetto famiglia giustamente l'emergenza era prima sanitaria anche economica ma è chiaro che se la fase 2 deve essere deve tener conto delle esigenze dei bambini in questo senso tutta questa settimana è stata dedicata ad approfondire con degli esperti di ogni livello la tematica della famiglia abbiamo iniziato domenica scorsa promuovendo al comune delle proposte che permettessero una riapertura in sicurezza in ottemperanza alle direttive ministeriali che spesso che presto dovranno arrivare che permettessero quanto prima la riapertura degli asili nido l'attività estive per le scuole dell'infanzia e ancora una modalità di gioco e di didattica per i bambini delle scuole alimentari e medie e ovviamente momenti importanti di aggregazione per gli adolescenti proposte che abbiamo diffuso e articolato con dei comunicati abbiamo addirittura approfondito con il ministro della famiglia Elena Bonetti martedì sera alcune di queste tematiche di cui si è fatta carico e che speriamo al più presto diventino un decreto attuativo anche ieri sera abbiamo aperto un dibattito con gli operatori del settore a partire dall'assessorato all'istruzione del comune di Lecco e ancora le cooperative di settore gli oratori e non ultima la FISM la federazione italiana delle scuole materne non statali che a Lecco svolge un ruolo centrale perché tre quarti degli asili che sono quelli parrocchiali alla fine sono gestiti dalla associazione pertanto una ripartenza che ponga al centro la famiglia che ponga al centro i bambini ecco deve essere quantomeno coordinata con criteri di rete rispetto a quali il comune si è ben detto disponibile a collaborare anche perché per motivi di economia e di risorse e di tempo il comune non potrà fare tutto da sole quindi una sussidiarietà positiva dovrà essere innescata speriamo quindi che al più presto partano anche i cantieri per la messa norma di alcune scuole per la diffusione degli strumenti digitali per questa nuova normalità didattica che sta diventando anche pesante perché ha visto sostituire gli insegnanti con i genitori che chiaramente spesso diventa improbabile soprattutto per le fasce più debole e più esposte a rischio. In questa fase 2 è partita anche la campagna elettorale è partita probabilmente nel modo più vecchio a cui eravamo abituati cioè con il modo della polemica di fronte a queste nostre proposte così circostanziate e così ponderate ci hanno risposto con sparate a salve e piene di retorica ma con zero proposte ecco speriamo che oltre a rinnovare la nostra società rinnovare la scuola si possa anche rinnovare un modo di fare politica per il bene della nostra città.